Ieri ho incontrato tutte le autorità locali, gli esponenti politici della provincia di Bergamo, della provincia di Lecco, sul ponte San Michele, che è chiuso da poche settimane, che sta creando un enorme disagio, un ponte costruito nella fine dell'Ottocento. Che cosa ha fatto il sottoscritto? Ha nominato già nel decreto emergenza un commissario, che agirà con poteri anche lì straordinari, per velocizzare l'iter progettuale, per permettere ai cittadini, migliaia tutti i giorni, che si spostano magari andando verso Milano, di tornare ad avere una vita normale da pendolare. Ad annunciarlo è stato lo stesso ministro alle infrastrutture, Danilo Toninelli, in diretta Facebook, nominato un commissario per la messa in sicurezza del ponte San Michele, che collega le sponde di Paderno d'Adde Calusco, chiuso da quasi un mese perché a rischio crollo. A chi sia stato affidato l'incarico al momento resta un mistero, l'ipotesi più plausibile, che si tratti di un dirigente delle ferrovie e probabilmente lo stesso amministratore delegato, Maurizio Gentile. Il commissario agirà con poteri straordinari per velocizzare gli iter progettuali, ha sottolineato il ministro accogliendo la richiesta dei parlamentari delle province di Lecco e Bergamo, che avevano presentato un emendamento proprio al decreto Genova. La notizia è stata accolta con un plauso dall'assessore regionale alle infrastrutture. Sono lieta del fatto che il ministro Toninelli abbia raccolto l'istanza che io e parlamentari della maggioranza di governo gli abbiamo sottoposto durante l'incontro di martedì al Ministero, ha commentato Claudia Maria Terzi. I territori interessati stanno soffrendo ed è fondamentale dare risposte celeri ed efficaci, rimediando alle inefficienze e alle lungaggini che ci hanno portato in questa situazione non accettabile. Ora aspettiamo di sapere ufficialmente chi sarà il commissario e quali saranno nel dettaglio i suoi poteri e le sue prerogative. Intanto, nell'ultimo mese, il traffico quotidiano si è inevitabilmente spostato sul vicino ponte di Brivio, che ha visto un incremento dei transiti del 35%. In una nota congiunta, i sindaci di Brivio, Federico Eroldi, di Cisano Bergamasco, Andrea Previtali, hanno chiesto nuove verifiche e interventi di manutenzione urgenti a loro viadotto che nel 2017 ha compiuto un secolo. Sollecitati ulteriori limite di carico e di vieti di transito ai veicoli più pesanti, insieme a verifiche più serrate da parte degli agenti della Polstrada, perché venga rispettato il blocco dei mezzi superiori alle 56 tonnellate e l'obbligo di mantenere una distanza minima di 50 metri l'uno dall'altro. Chiesta infine la sistemazione delle strade comunali che si stanno rapidamente deteriorando a causa dell'aumento del traffico.